Poker in trasferta e prima vittoria stagionale per l'Under-17 del Frosinone che passa sul campo della Ternana e riscatta lo sfortunato KO all'esordio contro il Napoli. Giallazzurri in vantaggio al diciottesimo grazie al rocambolesco colpo di testa di Voncina che beffa con un preciso pallonetto, l'estremo difensore di casa. La Ternana pareggia i conti sei minuti dopo con Bonifazi che di testa anticipa Stellato e firma il gol dell'1-1. Il Frosinone gioca bene e torna avanti nel finale di primo tempo, protagonista l'attaccante D'Andrea che firma una splendida doppitta. Due gol di pregevole fattura che regalano ai giallazzurri di Davido Di Michele il doppio vantaggio prima dell'intervallo. Nella ripresa il Frosinone insiste e chiude la pratica con il calcio di rigore realizzato dai Vangelisti. A Termi finisce 4-1, domenica l'Under-17 affronta in casa il Lecce.